la 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 delicious I'm speechless speechless I am welcome to Vincenzo's place on the beach Pescara beach here at Accapulco Il nostro preferito, è vero, il nostro preferito. Cosa cuciniamo oggi? Mezzemalica al salmone, la best pasta che usavamo ieri, l'Italian way, l'Abruzzo style, e noi stiamo utilizzando inglese di Abbruzzo. Allora, andiamo a vedere. È meraviglia. E guarda qui siamo, guarda qui siamo. Allora, iniziamo col mettere l'olio. Poi aggiungiamo pomodorini e cipolla e lasciamo soffriggere per qualche minuto. Allora, è molto vento qui, quindi siamo tutti supporti questo, perché è cucina. Allora, andiamo con il salmone. Che profumino ragazzi, arriva? Si sente il profumo? Si sente? Vai! Facci mangiare Paolo! Questo è un'olio. Ora, papà, mettiamo un po' di salto in il salto e usiamo il salto. Vai, vai Paolone, vai! Vai Paolone! Un po' di salto. Ok. Intanto mettiamo a cuocere l'acqua. Prima di metterlo quando bolle. Cuocere con i bambini è sempre più divertente, e sempre portano più amore e felicità alla famiglia. Quindi un giorno si comprende e si cuocerebbe molto bene. Un giorno cucinerai tu per la mamma, è vero? Pure Marusca devi imparare a cucinare. So, now is the time where we want to put the cheese. We want to make this sauce nice and creamy. So, we're using an Italian version of Pilla del Occhio cheese. A nice, soft, creamy cheese. Let's go for it. Guarda che bello. Spero sia anche buono. Io propongo questo brindisi a questa nuova ricetta di Vincenzo Spleit. No, no, no. No, di Paolo. Di Paolo Spleit. Grande Zaccagnini number one. So guys, basically the wind is killing us today, and it's very hard to boil the pasta. So we have to create this. Vediamo, let's see if the water is boiling. Let's see, va Pa Pa. Bolle, 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 bolle! Eeeeeee! Passiamo la pasta. Dai, 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 che ci siamo quasi. È quasi pronto. Vai! Ci siamo quasi. Un minutino giusto per completare la cottura della pasta. Hey guys, the pasta is ready. Look at people! Yeah! We are live from Pescara Beach, from Acapulco Beach. Yeah! All right, so we're mixing all of these. Look at that, look how beautiful, look how creamy it is, look at that. Ah, nice and creamy. It's the way I love it. And now it's time for the parsley. Bye! Everyone is so excited to come here, and have the food. Paolo! 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 Ma come è buona? Fantastico! 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 Ma vai in Australia. Marvellous! Guys, thank you very much for watching this episode. I'm from Pescara. I'm using the Ingenio's Plate video recipe. Basically, you have to put a like, a comment, and to subscribe to Ingenio's Plate because it's free on YouTube. So guys, e ora si mancia! Ingenio's Plate! Ingenio's Plate! Yeah! Calma, calma! Che fai? Io cucino e lui mi prendi bene! Paolo's Plate! 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 Five impacting us, and we can trade back! We will try and run away! He had an amazingNSolo!